Ciao carissimi amici, a breve inizierà Winup Expo che si terrà dal 19 al 22 luglio in Sicilia, curato dall'associazione Sicilia Pro Events. Tra le diverse iniziative si terrà una tavola rotonda presso l'osservatorio vulcanologico a circa 3000 metri di altezza, dal titolo Keno Turismo e Marketing. Vi aspetto in Sicilia, a frattempo vi saluto dal Ghero, esattamente da Capocaccia. Ecco, quella è la parodata e il video. Ciao! Ciao!